Eccoci qui alla Bisacchi, si lavora anche di notte per fare delle soluzioni veramente su misura e quando dico su misura intendo delle cose di questo tipo, non la finestrina su misura nel senso di dimensioni ma veramente dei prodotti unici. Questo è un profilo in acciaio a taglio termico con un isolamento molto molto grande che separa la parte esterna da quella interna e una vista frontale sottilissima. Guarda questo è il mio dito e questo non è un montante fisso, qui c'è sia l'apribile che il fisso, infatti questa è la porta con la sua serratura, sopra c'è tutto il tetto che verrà rivestito in rame con un bel strato di materiale isolante, qua abbiamo una finestra apribile a sporgere e sotto stiamo progettando e realizzando tutte queste bugne in lamiera blindata con isolante interposto. Il tutto poi verrà verniciato a polvere e se non va dorato questo verrà grigio o micaccio ma quando sarà finita questa realizzazione che va in una villa in una zona molto molto bella di Cesena, vedrete le foto se sarà possibile. Ecco qui, ci tenevo a farvi vedere una cosa veramente su misura, solo da Bisacchi, ciao!